Benvenuti, mi chiamo Cristina Molinari, la mia azienda è il laboratorio di resistenza dolciaria e poi vi spiego subito il nome perché è il laboratorio di resistenza dolciaria. La nostra scelta è stata di resistere alle materie prime, scegliendo le materie prime escludendo completamente chimica, quindi conservanti, coloranti e tutto questo. Quindi puntiamo molto sulla mano d'opera e sugli ingredienti locali. Noi siamo ad Alba, centro non solo del vino ma anche delle nocciole e di altri prodotti come caseari, partendo dal burro e i formaggi, quindi abbiamo cominciato a lavorare proprio su questo. I nostri dolci tipici sono chiaramente la torta di nocciole, questo è un classico, e poi facciamo anche una Arbiora, l'ingrediente principale è la Robiola di Roccaverano ed è anche per questo che l'abbiniamo alle nocciole. Poi veniamo al vino, quindi il nostro legame con il vino, facciamo dei panettoni e le colombe con il moscato d'asti, con il vino Bracchetto che è il rosso dolce del rovero. Un'altra nostra specialità è la cioccolata al barolocchinato, quindi barolocchinato e cioccolato si sposano benissimo. Noi li abbiamo messi tutti in un bicchiere, quindi è un cioccolato spalmabile che si mangia a cucchiaiate. Questa è l'Arbiora, quella con le Robiola di Roccaverano e le nocciole, e questa è invece la classica torta di nocciole. Grazie della visita, vi aspetto presto!